La città metropolitana sta per varare il piano strategico metropolitano che prevede investimenti cospicui in tutto il territorio metropolitano e in particolare prevede investimenti gestiti direttamente dagli antilogali. Qual è la sua opinione a proposito di questa iniziativa? Io penso che per tutti i comuni della città metropolitana questa sia una vera e propria opportunità da cogliere al volo, quindi ringrazio il sindaco di Magistris che vede tutti i comuni come centralità del progetto, quindi lo ringrazio per questa opportunità che ci sta dando, che veramente è da sfruttare. A proposito di piano strategico, il suo comune ha già dei progetti che intende sottoporre per il finanziamento nell'ambito di questo piano? Ci sono delle idee progettuali, il sogno è di avere un palazzetto dello sport tutto nostro, corredato anche alle attività scolastiche e il rifacimento del mando stradale che è da un po' al po' che non si fa, quindi questi sono i sogni che abbiamo nel cassetto.